Fa ingresso la Corte, fa ingresso il Presidente della sezione regionale di controllo Lazio. Buongiorno, grazie a tutti per essere qui. La Corte dei Conti del Lazio, nella funzione di controllo, oggi è riunita per emettere il suo giudizio sul rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 2022. Condivideranno con me la decisione che andremo a prendere, i colleghi che sono alla mia destra, il Presidente aggiunto Franco Mazzi che oggi debutta e quindi facciamo anche gli auguri, il nuovo acquisto nel mercato autunnale. A seguire i colleghi Sucameli, Caleo e Roberto, scusate che non vi vedo tutti. A sinistra invece abbiamo D'Ambrosio, Pinto che è anche la redatrice del giudizio e Leoni e Santucci. Che cosa facciamo oggi? Diciamo un po' lo sapete, basta che avete letto l'invito. Molti di voi sono già stati qua in altre occasioni e quindi hanno esperienza della nostra attività e altri sono qui per la prima volta. A beneficio di chi non ha questa esperienza ricordo che il giudizio di barifica è una delle attribuzioni più antiche della Corte dei Conti. Risale al testo unico del 1934 quando il legislatore per fortuna faceva i testi unici e quindi non ci faceva cercare le regole sparpagliate nel mondo giuridico e che a sua volta però già recepiva disposizioni che in parte erano già presenti nella legge istitutiva della Corte che era del 1862. Quando il Presidente della Repubblica giorni fa faceva riferimento a regole obsolete io pensavo che le nostre sono ancora più vintage e quindi una riflessione ogni tanto anche su queste situazioni dovremmo pur farla. Il giudizio di barificazione si chiama così perché consisteva in origine nel confronto fra le scritture che presentava l'amministrazione in sede di rendiconto e le scritture che erano in possesso della Corte dei Conti. Erano i tempi in cui c'era un controllo preventivo molto vasto e quindi mano a mano che gli atti passavano nella Corte dei Conti venivano registrati e quindi veniva presa nota dei fatti di gestione che erano avvenuti. Così che alla fine dell'anno quando l'amministrazione presentava le sue scritture le confrontavamo con le nostre mettendole praticamente a bacio e veniva fuori poi il risultato finale. Nel corso del tempo i controlli preventivi della Corte però sono progressivamente venuti meno fino a una dastica riduzione. Questo ha fatto sì che si sono esaurite anche le nostre fonti di conoscenza dirette e quindi sono venuti meno le scritture contabili interne nostre e sono finiti pure i baci a quel punto. L'istituto nasce per il bilancio dello Stato. Nel tempo non c'era la finanza derivata, non c'era i trasferimenti eccetera eccetera. Poi il modello è stato esportato con l'avvento dell'Italia repubblicana prima nelle regioni a statuto speciale che l'hanno avuto in vari tempi salvo una che ancora si è salvata. Poi è stato trasferito il modello alle regioni e anche alle regioni a statuto ordinario. Se la radice normativa è la stessa, in realtà i due alberi sono cresciuti in maniera diversa nel senso che il giudizio nazionale continuiamo a farlo secondo grosso modo le regole, le finalità e le attitudini dell'epoca mentre nella regione il giudizio ha assunto una sua filosofia diversa e abbastanza particolare. Per quanto riguarda la sezione, il giudizio di parificazione è il momento di chiusura dei controlli che ogni anno vengono dedicati alla regione e che iniziano a inizio anno, nei primi mesi dell'anno, con l'esame dei rendiconti dei gruppi consigliari che quest'anno non hanno creato particolari problemi ma hanno richiesto soltanto delle regolarizzazioni, spesso e volentieri documentali che sono state effettuate. E' proseguita in corso dell'anno con l'esame delle leggi di spesa dove abbiamo come sempre rilevato le soli di città, cioè le differenze fra le iniziative di giunta e le iniziative di consiglio per quanto riguarda la correttezza delle coperture. Quest'anno poi abbiamo fatto anche un focus sull'utilizzo dei fondi comunitari e adesso, sulla base anche di queste esperienze che abbiamo avuto oggi facciamo il giudizio di parifica. Il giudizio quest'anno presenta due peculiarità. Una è di ordine temporale, cioè che facciamo il giudizio di parifica del 22 scusate che sto scivolando e sto prendendo una posizione da Schumacher e va a ridosso del giudizio di parifica del 2021 che abbiamo potuto chiudere soltanto a luglio di quest'anno in quanto l'anno scorso, all'udienza del 10 novembre avevamo sospeso una parte del giudizio ritenendo pregiudizievole un contenzioso che era in atto davanti alle sezioni riunite che era stata azionata dalla Regione e dal Governo su altre nostre delibere che impattavano nell'ambito del comparto sanitario. Questi giudizi davanti alle sezioni riunite si sono poi alla fine conclusi con una durata, tutto sommato, abbastanza insolita e non ci hanno dato però le risposte che attendevamo. Comunque a luglio di quest'anno abbiamo chiuso il 2021. Vi dicevo questo perché in genere il giudizio di parifica acquista un suo valore specifico se si riesce a fare entro luglio cioè prima che la Regione proceda a fare l'assestamento in quanto giudizio dà vita all'approvazione del rendiconto il rendiconto poi sconta il ricevimento in sede di assestamento quest'anno la Regione l'assestamento già l'ha fatto come era previsto da una norma così come l'ha fatto anche l'anno scorso e quindi ci stiamo un po' rincorrendo da questo punto di vista però pensiamo che l'anno scorso era il 10 novembre quando abbiamo fatto l'udienza e oggi siamo al 29 settembre non siamo seduti in quel caffè come una canzone dei miei tempi prevedeva ma siamo qui nell'aula più bella della Corte dei Conti a dar vita al giudizio di parifica e questa è la prima particolarità temporale stiamo cercando di riavvicinarci a quello che dovrebbe essere l'obiettivo di svolgere il giudizio entro il mese di luglio e questo credo che sarà uno degli obiettivi principali di chi mi succederà nell'incarico la seconda questione non è propriamente giuridica diciamo è meta giuridica però forse merita di essere richiamata l'amministrazione che oggi rende il conto non è quella che l'ha gestito e questo succede dopo una decina d'anni dove tutto sommato c'era stata una certa continuità qua c'è una cesura c'è un discorso diverso e quindi l'amministrazione che oggi è qui davanti è qui presente e che sarà quindi oggetto del nostro giudizio è diversa da quella che l'ha gestito e quindi è chiamata a giustificare a spiegare quello che hanno fatto altri quello che probabilmente a suo tempo non avevano neanche condiviso oppure addirittura ostacolato da un punto di vista giuridico non ci sono grossi problemi perché ragioniamo nell'ottica della continuità dell'amministrazione quindi la cosa non ci riguarda a me però la questione mi lascia un pochettino perplesso se penso che quello che succede negli enti nelle società spesso negli stessi condomini dove il mandato dell'organo scade con l'Assemblea del bilancio in modo che sia riuscente a giustificare ciò che ha fatto e non l'entrante che non ne sa assolutamente niente ecco questa è una riflessione che lascio a un politologo di buona volontà detto questo è ora che cominciamo a far parlare i numeri che spero vi interesseranno e soprattutto facciamo parlare il consigliere relatore che è la dottoressa Vanessa Pinto che è quella che ha fatto l'istruttoria della regione e che quindi adesso ci racconta gli esiti di quello che abbiamo fatto grazie a te Vanessa grazie presidente grazie a tutti vi volevo salutare buongiorno a tutti cercherò di essere il più breve e sintetica possibile più dell'istruttoria che ho condotto con il mio team di funzionari in un arco temporale abbastanza esteso ed anticipato anche rispetto all'approvazione dello stesso schema di rendiconto e questo perché proprio alla luce dell'oggetto specifico di questo giudizio che l'accertamento dello stato di legittimità regolarità del saldo di amministrazione ad una certa data a tal fine è necessario effettuare delle indagini e dei riscontri significativi ed approfonditi che partano a monte dalle dinamiche dalle stesse dinamiche di gestione del sistema di bilancio ecco perché abbiamo iniziato l'istruttoria il 6 marzo e si è prolungata quindi si è stesa nell'arco di ben cinque mesi devo ringraziare anche le strutture le strutture regionali per la pazienza con cui è la diciamo la pazienza con cui hanno voluto accompagnarci seppur in via parallela ma convergente verso l'unico comune diciamo obiettivo qual è la tutela del bilancio come bene di tutti di tutti noi di oggi e delle generazioni future a tal fine è quindi necessario andare ad individuare i fattori eventualmente perturbanti una dinamica di gestione sana ecco perché il giudizio si compone di due elementi fondamentalmente l'accertamento del saldo ad una certa data è la verifica della sana gestione finanziaria in termini di fatti di gestione che sono suscettibili diciamo anche in via prospettica di alterare la tutela degli equilibri sostanziali e questo perché qual è il fine ultimo di questi numeri cioè degli accertamenti sui numeri e l'accertamento della fattibilità in termini di effettiva sostenibilità finanziaria dei servizi ai fini del soddisfacimento bisogni della collettività in questo senso i numeri del del bilancio si umanizzano perché sono lo strumento essenziale per il perseguimento del del fine del fine ultimo e primo dell'agere pubblico quindi l'indagine si è estesa a largo spettro proprio al fine di consentire alla nuova amministrazione di avere un quadro il più completo possibile sullo stato dell'arte al fine di individuare possibili margini di miglioramento e quindi rimediare ai vulnus individuati e questo quindi in un'ottica di ausilio in chiave preventiva che non comporta il fatto che l'accertamento del saldo viene fatto sulla base di norme e di principi costituzionali l'analisi quindi ha individuato gli esiti è partita il 6 marzo sulla base di dinamiche di gestione diciamo ripetute e quindi strutturali che sono state individuate come potenzialmente lesive o comunque in un certo senso problematiche ai fini di una sana gestione del sistema di bilancio ci si riferisce in appunto in primo luogo allo stesso iter di approvazione dei documenti di bilancio da un'analisi storica è stato rilevato almeno nell'ultimo appunto triennio 18-21 che e poi anche nel 22 che i documenti di bilancio gli schemi di bilancio vengono approvati in assenza del previo parere dell'organo di revisione la prassi non è come dire priva di conseguenze sostanziali sia perché è previsto espressamente dal legislatore nazionale il principio compito di esprimere un parere preventivo sullo schema quindi sulla proposta di appunto rendiconto proprio in virtù della natura di organo di controllo più in prossimità dell'ente proprio perché svolge un tipo di controllo concomitante nell'arco dell'intero esercizio finanziario e per tale ragione è quello più in grado di far prevenire allo stesso ente l'approvazione di progetti di bilancio magari inficiati da determinate irregolarità la seconda anomalia è la tempistica il rispetto della tempistica di approvazione anche questa espressamente prevista dall'ordinamento vigente contabile e non è appunto neanche questa una mera formalità perché è funzionale al rispetto dell'annualità del bilancio è uno scadenzamento attraverso il quale noi possiamo in un certo senso accertare verificare il saldo a quella data quindi ogni tipo di diciamo scadenzamento diverso che appunto travalica lo stesso esercizio finanziario è di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio ad un corretto e lineare diciamo ordinamento contabile gestione contabile l'aspetto ha in particolare connotato la gestione del sistema di bilancio sanitario GSA che infatti si è notato che sia l'approvazione dello stesso bilancio di esercizio GSA che del correlato consolidato sanitario l'anno scorso per il 21 sono stati approvati con ben sette mesi di ritardo quindi termini previsti 30 maggio 30 giugno sono stati approvati a dicembre questo con evidente diciamo superamento degli stessi confini temporali dell'esercizio con effetti anche sulla non definitività dei dati di bilancio su che viene effettuato è stato effettuato lo svincolo da parte dei tavoli ai fini dell'utilizzo delle risorse dell'extragettito perché è stato effettuato questo svincolo sulla base di un equilibrio di bilancio basato su dati non definitivi perché non definitivi perché non approvati nei termini e con le forme previste dalla legge altre criticità di natura sistemica che si suggerisce anzi si invita l'ente a voler in un certo senso aggiustare correggere ineriscono all'attendibilità veridicità dei dati di bilancio in particolare in particolare avendo riguardo all'effettiva consistenza della massa attiva sono stati riscontrati residui attivi ante 2017 con una percentuale di riscossione pari all'11% e in alcuni casi anche prossime allo zero questo impone un efficientamento dell'attività di diciamo riaccertamento che è stata attivata dall'ente infatti si è appunto registrata una percentuale di cancellazione per insussistenza pari al 12% quindi si invita l'ente a appunto cominciare dal voler individuare gli effettivi fattori perturbanti in primis quali l'effettiva capacità di spesa e quindi come l'effettiva capacità di entrata che è alla base di una spesa effettivamente sostenibile quindi altro elemento nell'alveo della non attendibilità è appunto stato riscontrato nello stesso sistema di gestione del sistema sanitario ad oggi ci sono in corso attività appunto straordinarie messe in campo dall'amministrazione per l'accertamento dell'effettiva composizione dei fattori perturbanti e quali fondi di dotazione negativi effettiva composizione effettivo ammontare e dell'intero aggregato dei rapporti debiti crediti GSA sistema sanitario regionale sono in corso conciliazioni ma non sono attualmente concluse quindi ad oggi unitamente anche alla appunto questione dell'effettiva individuazione in termini di ammontare degli effetti negativi delle note di credito abbiamo un quadro in cui il complessivo aggregato sistema sanitario regionale è in corso di definizione in termini di dati certi univoci e quindi attendibili l'altra diciamo così argomento in termini di in certo senso necessità di rendere attendibile il dato e sulla spesa di personale perché appunto nonostante varie istruttorie ad oggi ad oggi non è stato possibile per la stessa per la stessa amministrazione fornire dati univoci questo comporta cosa in primo luogo un in certo senso problema per la stessa amministrazione in termini di capacità di individuare la mole di spesa complessiva e per noi cioè per il controllo dell'effettivo dell'effettivo rispetto dei dei vincoli finanziari vigenti altra problematica però in questo senso di di natura contabile ma che si riflette anche sulla sostanza che è dietro la contabilità è l'assenza perché non previsto dalla legge di un sistema che in un certo senso consente il tracciamento e l'individuazione dell'evoluzione della spesa della spesa vincolata questo questo che cosa comporta comporta che ci sia un'incisione sulle spese sulle spese vincolate a determinati a determinati scopi proprio perché non avendo ad oggi anche se l'ente si è ha come gli è già dichiarato che si sta attivando per per dotarsi di un efficientamento di un sistema proprio e dal punto di vista informatico consenta tracciamento cioè della cassa vincolata ordinaria e delle correlate spese e quindi delle economie alla fine di evitare che poi alla fine confluisca tutto in un come dire macro in una macro scatola e nessuno sappia a cosa è destinata quell'entrata e perché non è stata effettuata quella spesa dal punto di vista poi della come dire gestione della gestione e degli atti messi in campo per per l'efficientamento si è evidenziata ed è stata confermata invece un'attività molto solerte in termini di rapporti debito-credito con gli enti locali e quindi questo è un come dire segnale di una volontà di efficientamento in termini di disvelamento di chi e cosa aspetta all'uno e all'altro al fine di evitare e porre rimedio ad una bolla finanziaria regionale per cui da un lato c'è la conservazione di crediti inesistenti lato degli enti locali e dall'altro magari una sottostima delle debense regionali e questo si è esteso sempre a più a appunto a più comuni e diciamo ad eccezione di alcuni comuni silenti tuttori silenti tra cui comune di Roma Frosinone e Rieti e quindi si invitano anche questi enti a collaborare nell'attività di disvelamento comune dell'effettiva massa attiva e passiva reciproca questa attività sarà implementata anche con un sistema informatico e sarà anche utilizzata si spera in termini di conciliazione partite debitori e creditori sistema sanitario regionale e per l'università che è un altro tassello da diciamo implementare si è pure rilevato un buon grado di adeguamento prescrizioni in tema di pubblicità e trasparenza e anche per la gestione degli enti partecipati e controllati si è come dire rilevato un buon grado di efficientamento della spesa in termini di obiettivi di in un certo senso razionalizzazione anche se è stato evidenziato che le esclusioni ai fini di questo rispetto della spesa sono state diciamo individuate in una come in un certo senso parametri abbastanza larghi e quindi e quindi suscettibili di poter consentire nei fatti degli sforamenti lente anche sul punto si è appunto dichiarato di volersi adeguare hai il tempo ok allora vado breve andiamo sul bilancio andiamo sul bilancio risultato d'amministrazione risultato d'amministrazione è appunto l'epilogo in sintesi dell'intera dell'intera gestione finanziaria cosa vuol dire che contiene gli elementi essenziali su cui si regge la gestione ha delle poste portanti cassa massa attiva residui attivi residui passivi e delle poste post vincoli ed accantonamenti al 31 12 22 abbiamo un risultato di amministrazione ante vincoli e accantonamenti pari a circa un miliardo 9 9 quindi ha appunto circa 2 2 miliardi post vincoli ed accantonamenti e quindi parte disponibile a meno 13 miliardi e questo perché perché quest'anno in sede di rendiconto l'ente ha accantonato a fondo anticipazioni di liquidità un'ulteriore somma di circa 1,9 miliardi a titolo di accantonamento di L35 e circa 4 miliardi a titolo di anticipazione ex legge 244 cosa si è notato sulla cassa la cassa che è eppure abbastanza alta è pari a 2 miliardi di cui circa l'88,8% è per cassa sanitaria mentre l'11,6% cassa ordinaria quindi per un ammontare di 241 milioni di euro cassa di cassa ordinaria ma la cassa ha una qualità che non è diciamo completamente rappresentata perché questo? perché una parte della cassa ordinaria è composta da entrate date da riversamenti degli enti e delle società parte del appunto cosiddetto sistema di ottimizzazione liquidità quindi è stata fatta quest'operazione con una legge regionale del 2015 al fine di evitare giustamente gli oneri d'anticipazione di tesoreria quindi se da un punto di vista del risparmio degli oneri è tutto corretto ed è ben diciamo cioè benvenuto non dà la corretta rappresentazione di quanta di quella cassa sia effettivamente non vincolata a debiti da restituzione quindi problematica di effettiva rappresentazione qualità della cassa questa circostanza unita al fatto che per il sistema contabile per la particolare modalità per cui le appunto risorse per il cioè per il finanziamento del del sistema sanitario regionale debbano essere accertate impegnate nello stesso esercizio vuol dire che la cassa ordinaria non è sufficiente a dare copertura e quindi fattibilità vera liquida a i vincoli e gli accantonamenti che sono attualmente gestiti da una massa di residui attivi per parte forse inattendibili quindi problematica di liquidità ed eventuale fragilità dell'effettiva dell'effettiva disponibilità liquida ordinaria abbiamo detto per i residui attivi anche quest'anno sono aumentati a circa 5,8 miliardi di cui circa 2,3 miliardi per appunto in conto residui e quindi non della competenza dal punto di vista degli accantonamenti sono state rilevate particolari come dire forme di accantonamento in certo senso sottostimate per il fondo residui perenti e andiamo ad un'altra parte cioè sul sistema di indebitamento e poi chiudo presidente allora sistema di indebitamento è un fatto notorio che la regione Lazio ha una mole di debito sovrabbondante il problema è anche la sua qualità solo il 9% di questo debito è per investimenti il resto è per disavanzi la cui maggior parte disavanzi ordinari 44% disavanzo ordinario 41% disavanzo sanitario il debito è stato giustamente ristrutturato con un risparmio di oneri di circa 996 milioni di cui c'è circa 282 ex ristrutturazioni rinegozzazioni anticipazione di liquidità del DL 35 e 600 milioni legge la legge 2 a punto 44 quindi queste ristrutturazioni che oggi hanno comportato dei risparmi di spesa notevoli hanno però lo scotto di essere state diluite di ulteriori anni quindi anticipazioni di liquidità DL 35 per ulteriori 8 anni circa anticipazioni legge 244 3 anni ulteriori circa e invece debito obbligazionario ex originariamente sani ma obbligazionario oggi per effetto di ristrutturazioni che sono state effettuate nel 2017 e 21 per ulteriori 10 anni quindi a oggi per i prossimi 25 anni a bocce ferme abbiamo un onere di debito annuale di un miliardo circa questo che cosa comporta comporta il fatto che non ci sia un'effettiva capacità di ulteriore indebitamento anche se anche e che quindi debba diciamo si debba in un certo senso agire sul risparmi di spesa comprimibili tra cui costi anche della politica perché è stato rilevato un aumento progressivo degli oneri personale diretta collaborazione sia nell'arco di tempo 2022 che in assoluto a partire dal 2013 quindi il primo anno di applicazione del DL 174 altra questione sul debito allora cioè ai fini della capacità di indebitamento che oggi sussiste per circa 262 milioni di euro all'incirca si è riscontrato che per una parte che però non incide né sui saldi né sullo sforamento né sul debito che è stato contabilizzato già dalla regione pienamente totalmente nel suo patrimonio netto oneri ex operazione sanim ma oggi ristrutturati che sono stati a mio parere inopinatamente esclusi dal calcolo del vincolo dell'indebitamento perché questo per insussistenza dei relativi presupposti di legge e questo perché oggi questo debito che è nato come un'operazione immobiliare di leasing con le ASL oggi ha assunto una nuova connotazione e debito finanziario a carico regione anche perché anche in virtù di queste operazioni di ristrutturazione gli immobili sono stati svincolati e termineranno nel 23 ad essere svincolati al fine proprio di consentire alle ASL oppure per gli immobili non più a destinazione ospedaliera di poter tornare nella libera disponibilità regionale quindi oggi abbiamo un debito finanziario secco che in quanto tale non poteva essere eliminato dai vincoli e comunque va a incidere ad impattare sulla capacità di ulteriore indebitamento in maniera tale da non impedirle ulteriore debito ma soltanto in certo senso riportare la forma alla sostanza su sistema appunto sanitario regionale abbiamo detto che la problematica vera è l'attuale non definitività dei dati e quindi a oggi non consente come non ha consentito un mese fa quindi senza nessuna nuova diciamo informazione di poter accertare oggi l'effettiva consistenza quindi a mio parere anche oggi bisogna soltanto attendere che vengano definite le effettive consistenze per verificare lo stato effettivo di salute del appunto sistema sanitario e con questo ho chiuso nella speranza di non avervi diciamo eccessivamente tediato e come dire vi auguro buona giornata grazie consigliere Pinto per l'esposizione maggiori dettagli ovviamente li trovate nello scritto che vi è stato consegnato adesso la parola passa al procuratore regionale per quelli che ancora sono qui ancora per la prima volta devo dire perché c'è il procuratore regionale perché c'è il pubblico ministero che in genere non segue le nostre attività ordinarie questo perché la norma del 1934 dice che tutto il procedimento poi va definito con le formalità contenziose e quindi della giurisdizione e questo spiega perché noi oggi qua indossiamo la doga che generalmente non mettiamo nella nostra attività di controllo questo spiega perché la decisione che oggi andremo a prendere avrà il valore di una sentenza e quindi sarà emessa in nome del popolo italiano e questo spiega perché c'è la presenza del procuratore regionale che svolge le sue funzioni di pubblico ministero non presso di noi perché non è istituito presso la sezione regionale di controllo ma è istituito presso la sezione giurisdizionale di controllo e quindi praticamente oggi è qui in prestito dato che noi non avevamo un ufficio del pubblico ministero ed è per mia ignoranza probabilmente credo che sia un caso più unico che raro di un pubblico ministero che esercita le funzioni davanti a un giudice diverso da quello presso cui è istituito non mi pare di ricordare situazioni analoghe quindi lui oggi è a casa ma è come se giocasse in trasferta signor procuratore ci dica quello che attendiamo grazie presidente grazie presidente allora intanto anche da parte mia alle autorità e agli ospiti un buongiorno cordiale e un ringraziamento per la presenza a questa udienza di parifica come ha già detto il presidente il giudizio di parificazione giunge al termine dell'attività svolta dalla sezione fungendo da presupposto per l'approvazione del rendiconto da parte dell'organo legislativo e valorizzando in questo modo la funzione di riscontro degli obiettivi economico-finanziali di gestione della cosa pubblica rispetto agli indirizzi programmatici elaborati in sede previsionale prima però di affrontare le questioni giù scontabili a cui faccio rinvio volevo affrontare un tema di carattere generale che riguarda la centralità e l'importanza che la dottrina e la giurisprudenza giustamente riservano al canone della certezza del diritto che è funzionale ad assicurare i principi di affidamento della comunità nell'ordinamento e di stabilità della regolamentazione giuridica nel tempo e quindi rappresentando un valore di cui l'interprete deve tener conto per questo motivo con specifico riferimento alle osservazioni sull'indebitamento sollevate nella relazione di riferimento a parere della procura si deve escludere che l'operazione finanziaria Sanim attuata dalla regione allo scopo di mettere liquidità nel sistema delle aziende ancorché rinegoziata dal MEF possa essere considerata un indebitamento e come tale computata ai fini del calcolo dei rispettivi vincoli analogo a considerazione al nostro avviso si deve fare con riferimento alla norma di interpretazione autentica relativa ai finanziamenti erogati alla regione Lazio nel 2008 e poi rinegoziati con cassa depositi e prestiti sono questioni risalenti agli esercizi precedenti che sono state peraltro anche accranate in precedenti giudizi di parifica la decisione di parifica non a caso funge da presupposto per pervenire all'intagibilità del rendiconto i cui esiti dell'anno precedente si riverberano per il sistema di continuità dei cicli di bilancio sull'esercizio successivo ma solo se la validazione dei risultati di amministrazione è connotata da un sufficiente grado di stabilità è possibile per il decisore politico fare scelte di economia e finanze idonee al perseguimento degli obiettivi prefissati laddove al contrario situazioni di incertezza interpretativa condizionano inevitabilmente la valutazione dei presupposti e degli effetti economici delle scelte adottate o da adottare anticipando alcune valutazioni che sono poi espresse per esteso nella relazione scritta la regione dobbiamo dire che la regione soffre ancora di un consistente indebitamento che limita di molto la capacità di investimento necessaria per far fronte alle esigenze di servizi alla collettività più efficaci e funzionali è quindi necessario intervenire fin dove è possibile sul fronte del contenimento delle spese comprimibili e il pensiero anche per come dire obbligo di servizio requirente va alle consulenze agli incarichi di natura fiduciaria per dirottare ogni risorsa possibile sul fronte dell'innovazione e dell'efficientamento dei servizi di competenza rimane particolarmente critica la situazione della gestione dei servizi sanitari aggravata da fenomeni congiunturali che si vanno ripetendo e influiscono sui saldi della spesa sanitaria comportando non di rato riflessi negativi anche sul versante del danno erariale attesa la preponderanza di questo settore di intervento e considerato quanto l'emergenza covid ha evidenziato si rende necessario ed urgente un generale ripensamento dell'organizzazione sanitaria che prediliga la sanità territoriale capace di dare risposte immediate al cittadino liberando risorse finanziarie e professionali per le strutture più grandi e per la gestione delle patologie più complesse il tema dell'assistenza sanitaria territoriale deve rappresentare una sfida per il servizio sanitario nazionale capace di traghettare la nostra sanità anche oltre alla gestione dei fondi dedicati del PNRR ad oggi infatti il ridimensionamento delle capacità operative degli ospedali non è stato accompagnato da un adeguato rafforzamento della sanità territoriale questo fenomeno è presente anche nel Lazio dove gli ospedali vengono spesso sovraccaricati dalla richiesta di interventi che potrebbero essere svolti altrove perché a più bassa intensità clinica l'obiettivo oggettivamente sfidante per la governanza della regione deve essere quello di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria che nell'alvio del DM77 del 22 consenta una maggiore efficienza dei servizi resi alla cittadinanza e assai probabilmente riporti consistenti risparmi di stesa ovviamente per raggiungere questi obiettivi bisogna che oltre agli appostamenti sul bilancio regionale anche il governo centrale faccia la sua parte garantendo adeguate risorse al servizio anche quando i fondi del PNRR saranno esauriti in questo contesto sta diventando una vera e prova di emergenza la carenza di personale e le difficoltà di reclutamento a causa della perdita di attrattività del servizio sanitario soprattutto per quanto riguarda gli infermieri e i medici di servizi di emergenza con il necessitato ricorso ai cosiddetti medici a gettone la questione va affrontata a livello nazionale con un'adeguata programmazione del personale l'incremento dell'offerta formativa l'adozione di misure volte a restituire attrattività al lavoro nel servizio sanitario in termini di riconoscimento sociale ed economico anche nella regione Lazio il fenomeno sembra in espansione senza peraltro garantire elevati standard di qualità ma comportando un notevole impegno dal punto di vista finanziario anche in relazione a segnalazioni di sprechi inefficienzi la procura sollecita la regione a verificare se e in che modo le singole aziende sanitarie adottino i più adeguati livelli di organizzazione atti ad ottimizzare costi e prestazioni analogo discorso va fatto per porre rimedio all'annosa problematica delle liste di attesa aggravata dall'emergenza pandemica ma ancor lungi dal trovare una soluzione definitiva anche su questo tema non mancano segnalazioni di abusi di illegittimità che la procura valuterà in termini di responsabilità erariale che devono indurre all'adozione di modelli organizzativi più adeguati alle esigenze della cittadinanza nella relazione scritta sono riportati i dati finanziari più significativi che devono essere sempre improntati al rispetto del principio di veridicità ed attendibilità del bilancio necessario a rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica patrimoniale e finanziaria di ogni esercizio connesso a questo tema c'è quello che viene in evidenza con il sistema di ottimizzazione delle disponibilità liquide a livello regionale con cui il legislatore con la finalità di riturre il ricorso alle anticipazioni di tesoreria che comporta l'obbligo di pagamenti di oneri per interessi ha istituito un sistema coattivo di gestione accentrata di cassa con le società controllate e gli enti pubblici regionali tali sistema pur funzionale alla riduzione dell'indebitamento non è in linea con i vigenti principi dell'ordinamento e la regione ipotizza la soppressione in ragione del venir meno della necessità di cassa posta alla base della sua adozione nell'ambito della verifica dei risultati della gestione del 2022 assume rilevanza come ha detto anche il relatore il risultato di amministrazione che rispetto al 2021 presenta un miglioramento contabile di circa 300 milioni di euro particolarmente significativa fra le componenti di questo risultato di amministrazione è il fondo credito di dubbia di esegibilità che aumenta rispetto all'esercizio precedente e la scelta adottata per il fondo rischi che l'amministrazione ha disposto aumentando l'accantonamento per contemporare i rischi di soccompensa due parole in più in ordine al fondo residui perenti di cui risulta una copertura del 58,12% quindi anche quest'anno inferiore alla soglia del 70% prevista dal decreto legislativo 118 sul punto la procura evidenzia che dalle risultanze di bilancio emerge un risorio tasso di riscrizione nel triennio 2020-2022 rispetto allo stock di perenzione tal che l'accantonamento risulta oggettivamente sovradimensionato anche se è la legge che lo prevede possiamo dire quindi che la valorizzazione di questo fondo nella misura massima di fatto si traduce in una immobilizzazione di risorse che più utilmente potrebbero essere destinate all'erogazione di servizi alla collettività e all'esercizio di pubbliche funzioni per cui ad avviso della procura risulterebbe maggiormente funzionale e necessaria una modifica normativa che rapporti il limite massimo dell'accantonamento alla misura percentuale dell'ammontare delle richieste di riscrizione nella serie storica triennale vale ancora segnalare l'attenzione che sarà prestata sulla socioculazione della sezione all'attività di riconciliazione contabile tra residui attivi e passivi con le società regionali mentre bisogna registrare una battuta di arresto fra delle attività di riconciliazione delle partite debitori e creditori fra lo Stato fra il bilancio dello Stato e il bilancio delle regioni e ancora di più procedono lentamente le attività di riconciliazione con la città metropolitana e la provincia a proposito dei risultati della provincia c'è una quantificazione stimata in circa 39 milioni di euro legata ad ulteriori richieste della provincia per funzioni non fondamentali la presenza di queste potenziali partite dei debitori impone una celere e corretta riprogrammazione e rimodulazione della spesa proprio in relazione a queste funzioni non fondamentali due parole anche in ordine alla spesa del personale gli interventi normativi sono andati nella direzione del contenimento della dinamica retributiva occupazionale nel rispetto nel tendenziale rispetto degli obiettivi di finanza pubblica si deve però rilevare comunque delle criticità già emersa in serie di parifica 2021 rispetto ai dipendenti comandati e distaccati da società regionali presso la regione e si registra un progressivo aumento dei costi della politica e vi compresi quelli del personale di diretta collaborazione la procura quindi auspica che la regione porti avanti le misure volte alla razionalizzazione di questa spesa magari anche attraverso una gestione unitaria di questi aggregati in modo da facilitarne il monitoraggio passando alla gestione sanitaria che rappresenta un profilo di rilievo nell'ambito del giudizio di parifica visto che incide in maniera rilevante sugli equilibri di bilancio e sulla realizzazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dovendo garantire livelli essenziali di prestazioni possiamo dire che nel corso dell'istruttoria è emersa una situazione di opacità contabile di cui ha fatto accenno anche già il relatore e d'altra parte la stessa regione ha riconosciuto l'impossibilità di individuare la dimensione qualitativa e quantitativa dei crediti e dei debiti tra il livello regionale e quello dei seggetti che operano all'interno del servizio sanitario regionale e risultano ancora critiche le questioni in tema di note di credito e di individuazione di effettiva consistenza dei fondi di dotazione emerge quindi la difficoltà di stimare le risorse effettive a disposizione del fine di perseguire l'obiettivo di tetela della salute e dei diritti sociali in questo quadro assume sempre maggior urgenza l'esigenza di riconciliare in via definitiva i rapporti tra bilancio regionale e bilancio dei soggetti operanti nell'ambito del servizio GSA e aziende sanitarie al fine di assicurare l'effettiva valutazione della correttezza e dell'efficienza dei fatti gestionali per dare stabilità ai bilanci delle aziende e al bilancio consolidato in proposito pur prendendo atto delle dichiarazioni della regione ribadite anche nell'udienza di contraddittorio in ordine all'avvio di controlli di appropriatezza e controlli esterni sulle asles e sulle strutture accreditate non può non rilevarsi come il protrarsi di una situazione non definita soprattutto nel lungo periodo si ripercuota sugli equilibri di bilancio non è stata ancora definita la nota questione dei fondi di situazione della regione Lazio che espongono valori negativi sotto il duplice profilo della definizione del piano di risanamento e della corretta loro quantificazione e si sottolinea pertanto l'esigenza di portare a rapida definizione il piano di ricapitalizzazione inoltre l'impossibilità di stimare l'effettiva consistenza dei fondi di dotazione impedendo di quantificare con precisione la consistenza degli utili e delle perdite inficia la trasparenza e la vericità del ciclo di bilancio non potendo il risultato di esercizio assicurare una rappresentazione veritaria e trasparente come richiesto dall'articolo 29 del decreto legislativo 118 ed è per questo motivo che la procura richiede di non parificare la corrispondente posta di bilancio non può passare in osservato il progressivo incremento dell'esposizione debitoria per contenziosi e sul punto è necessario e non più differibile adottare le più opportune iniziative volte a perseguire il miglioramento dei tempi di pagamento che ancora registrano valori patologicamente negativi e il completamento delle procedure ricognitive finalizzate a quantificare con maggior precisione l'ammontare delle passività al fine di ridurre per quanto possibile il rischio dei contenziosi come è noto la regione Lazio ha delegato alla società Lazio Crea la funzione di pagamento dei crediti commerciali e non commerciali gestiti attraverso il sistema informatico e vantati da fornitore strutture private e accreditare e farmacie convenzionali il meccanismo impatta non solo sulla corretta e trasparente rappresentazione dei fatti gestionali ma rischia di provocare nel lungo periodo effetti concreti sul bilancio non potendo emergere squilibri derivanti dalla mancata definizione delle partite e frustrando quindi la corretta applicazione del principio contabile della comprensibilità del bilancio finalizzato a permettere la consultazione e rendendo evidenti quindi le informazioni previsionali gestionali e di rendicontazione e anche per questo la procura chiede che questa posta di bilancio non venga parificata d'altra parte è una questione fatta oggetto già di censure in passato della sezione della procura che dovrebbe trovare auspicabilmente soluzione ma è un tema che ancora ad avviso di questo ufficio ha un punto interrogativo molto grosso attraverso l'istituzione dell'azienda sanitaria regionale Lazio.0 che dovrebbe andare a regime nel primo gennaio del 2025 sullo sfondo di questo quadro contabile rimane alla regione il compito di organizzare sul territorio nazionale servizi sanitari atti ad assicurare l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza definiti dal legislatore centrale quale nucleo invalicabile di garanzie minime che non possono essere pretermesse nemmeno di fronte a esigenze di salvaguardia dell'equilibrio di bilancio la realizzazione della tutela di livelli essenziali non passa peraltro soltanto attraverso il rispetto doveroso dei vincoli finanziari ma anche e soprattutto attraverso l'organizzazione di un servizio che assicuri qualità correttezza efficace della prestazione eliminando sprechi e inefficienze in conclusione rispetto alla gestione sanitaria permane prioritaria l'esigenza di un progressivo ma rapido ripianamento del deficit attraverso il superamento delle criticità allo stato non risolte come l'afficientamento dei processi la trasparenza della gestione di cassa e il riordino contabile tenendo tutto conto della indefettibile necessità di assicurare l'erogazione di servizi fondamentali a tutela del diritto costituzionalmente garantito della salute consentitemi prima di concludere di riprendere una considerazione formulata sotto forma di auspicio in occasione dell'udienza della parifica dell'esercizio 2021 si avvicina all'apertura dell'anno giubilare evento mondiale che coinvolgerà la struttura regionale nella gestione dei pellegrini provenienti da ogni parte del mondo che visiteranno non solo la capitale ma anche i numerosi siti legati alla cristianità dislocati nel territorio regionale è perciò essenziale che la regione concentri le sue competenze il suo impegno su tre settori che riteniamo possano impattare impatteranno direttamente sulle modalità con cui si svolgerà l'evento giubilare il primo pensiero non può che andare l'ho già accennato alla rete dei presidi sanitari che dovrà essere organizzata per far fronte a picchi di domande di assistenza durante tutto l'anno 2025 analogo sforzo organizzativo dovrà riguardare il servizio di trasporto pubblico locale e più in generale la rete viaria regionale che dovrà sopportare aumenti di traffico e non meno importante sarà poi l'intervento della regione per la parte ovviamente di competenza per garantire il buon funzionamento del ciclo dei rifiuti sono sfide tanto difficili quanto cruciali che l'amministrazione regionale dovrà affrontare in sinergia con il governo nazionale e le altre amministrazioni territoriali coinvolte nel comune obiettivo della buona riuscita dell'anno giubilare in conclusione sulle basi delle considerazioni che precedono dovendo ritenere corrette le risultanze del conto di bilancio per l'esercizio finanziario 2022 e nelle componenti del conto finanziario e del conto del patrimonio chiediamo la parifica ad eccezione dei capitoli di bilancio relativi ai fondi di dotazione aziendali e quelli connessi alla voce debito verso aziende sanitarie relativi ai movimenti tra GSA e la società Lazio Crea grazie Presidente grazie a lei signor procuratore e adesso l'intervento del Presidente della Regione perché qui non ve lo sto a spiegare illustre Presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti per il Lazio illustre procuratore regionale della Corte dei Conti consigliere relatore consiglieri della sezione regionale di controllo autorità gentili ospiti vi ringrazio per la approfondita disamina sul giudizio di parificazione presupposto fondamentale per l'approvazione del rendiconto da parte della nostra amministrazione ma quello del giudizio di parificazione è anche un momento molto importante di confronto per la comunità che rappresento per i nostri cittadini e per tutti i nostri interlocutori istituzionali che devono tornare a guardare alla Regione Lazio come un partner affidabile ne va della crescita economica sociale e morale di questo territorio oggi mi trovo per la prima volta in veste di Presidente della Regione Lazio a partecipare a questo importante momento sottolineando il fatto che nell'attenzione dei vostri lavori c'è una parifica su un'annualità che come ha detto lei Presidente non riguarda la nostra amministrazione ma su cui abbiamo doverosamente e lealmente e responsabilmente lavorato anche attraverso un costante dialogo con questa alta Corte nell'ottica di una corretta continuità amministrativa ed è a maggior ragione importante essere qui anche per illustrare a tutti voi la delicata e complessa situazione che abbiamo ereditato ma anche alcune delle misure che abbiamo adottato riferisco in particolare stato menzionato agli oltre 22 miliardi di euro di debito che rendono gravoso terribilmente gravoso l'oniere restitutorio per un periodo molto lungo sottraendo risorse che potrebbero essere investite in servizi e opere pubbliche per i cittadini in questo contesto le indicazioni della Corte sono per noi da intendersi come un faro che ci ha già guidato nell'approvazione della prima legge di bilancio quella del 2023 dove grazie alla massimizzazione delle alicote abbiamo previsto di realizzare tutti gli investimenti con surplus di parte corrente evitando di ricorrere al nuovo debito e ci tengo a portare alla vostra conoscenza che lo scorso 27 settembre in Consiglio regionale è stata approvata una legge con la quale la Giunta si impegna a nominare entro il 31 dicembre 2023 e quindi nel primo semestre 2024 e non attendendo il primo gennaio 2025 il commistario straordinario della Lazio.0 l'azienda che avrà la funzione di centralizzare i pagamenti del servizio sanitario regionale superando questo sistema farraginoso di Lazio Crea come da voi sollecitato e per tale ragione abbiamo voluto volutamente accelerato e inoltre sempre nella medesima seduta di aula abbiamo recepito una vostra osservazione menzionata con chiarezza dal relatore prevedendo l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 2015 numero 17 per ciò che attiene all'ottimizzazione della liquidità tra la regione gli enti e società regionali. La Corte ha giustamente posto molta attenzione sulla sanità regionale così come il procuratore in modo particolare su due aspetti che da molti anni feriscono la dignità dei nostri cittadini dell'istria d'attesa sovraffollamento del pronto soccorso attenzione al territorio ho potuto verificare attraverso le province del Lazio l'acuirsi delle disuguaglianze che impediscono la realizzazione concreta dell'articolo 32 della Costituzione con una sanità eccessivamente romano-centrica e una scarsa attenzione ai nostri territori alle nostre province con effetti importanti non solo sulla finanza pubblica consentitemi anche in questa sede sulla finanza degli stessi cittadini che sono costretti a sobbarcarsi viaggi onerosi per trovare risposta al loro diritto di salute per arrivare fino a Roma anche dai territori più remoti. Abbiamo trovato una sanità indebolita e fiaccata e che mette a repentaglio i livelli di assistenza. Ecco perché ho voluto tenere per me la delega la sanità l'ho voluta tenere per me sentendo profondamente e fin in fondo la responsabilità come presidente di guidare e accompagnare senza delegare a terzi con una filiera corta e diretta di responsabilità di assunzione di responsabilità su quello che è il tema più delicato che noi ci troviamo ad affrontare per poter tornare a guardare ai nostri conti senza quella opacità menzionata dal procuratore che tanto ferisce la dignità di qualsiasi pubblica amministrazione ogni volta che è media menzionata in un'altra corte come questa. I primi dati positivi su alcuni aspetti stanno arrivando abbiamo praticamente azzerato signor procuratore i tempi di attesa per delle ambulanze voi sapete che uno dei temi era il blocco delle ambulanze impatto sulla spesa perché comunque si poi chiamavano le ambulanze a gettone di fatto questo fenomeno è stato abbattuto dell'ottanta per cento rispetto al gennaio del duemila ventitré e questo è uno dei primi dati abbiamo abbattuto del venticinque per cento i tempi di attesa tra visita medica e ricovero e tra visita medica e dimissione all'interno del pronto soccorso piccoli segnali non bastano ma anche su questo è uno degli elementi su cui stiamo lavorando e peraltro il mio il nostro dovere è quello di governare tutto ciò che la sanità regionale paga non possiamo più permetterci l'anarchia organizzazioni che non rispondano al decisore politico amministrativo e mi riferisco al privato accreditato che ha un impatto forte sulle liste d'attesa e lei ha ragione a sottolineare quella piaga ma nel momento in cui il privato accreditato che noi paghiamo per centinaia e centinaia milioni di euro per milioni e milioni di prestazione non trova l'obbligo che abbiamo inserito all'interno all'interno delle nostre nuove procedure che partiranno dal primo gennaio 2024 abbiamo dato sette mesi ai privati per regolarizzare tutti i milioni di prestazioni che noi paghiamo troveranno ingresso all'interno del recupero regionale e il cittadino non dovrà più fare quel calvario telefonico anche su questo è efficientamento è controllo ma è anche individuazione delle reali criticità signor procuratore rispetto a quelle elementi che lei citava perché solo nel momento in cui noi avremo il pieno controllo dell'offerta sanitaria regionale potremo realmente andare a individuare quelle criticità di carenze di personale in maniera mirata e oculata perché oggi ovviamente nel caos è difficile individuare là dove ci sono le criticità e questo è uno solo dei primi passaggi attraverso un più compiuto utilizzo dei strumenti informatici noi arriveremo nell'arco di pochi mesi ad informatizzare tutte le liste d'attesa operatorie che è l'altro elemento che è elemento di criticità ma insieme a quello delle liste d'attesa ambulatoriali specialistiche elemento è anche potenziale rischio di fonte criminale o criminogeno quindi avere certezza sulla tempistica delle liste d'attesa è un altro degli interventi che ci consentirà un efficientamento con conseguenti positive ricadute sulla spesa ma soprattutto sulla qualità della vita dei nostri cittadini stiamo cedendo a questa riorganizzazione del piano sanitario regionale che avrà questa attenzione sui territori e verrà presentato stiamo lavorando in questi giorni alle prime audizioni informali verrà presentato nei prossimi giorni in maniera ufficiale e si avvicinano e poi avvicinandomi alla conclusione anche per la nostra regione signor procuratore lei ha ricordato appuntamenti di rilevanza mondiale il giubileo e anche consentitemi la candidatura per l'expo 2030 per la quale comunque auspichiamo perché potrebbe avere un beneficio importante come ricaduta sui nostri territori ma rimanendo al giubileo senza ovviamente io sono una persona umile e non ho nessuna arroganza intellettuale mi sento abbastanza confidente se non altro per la mia storia personale in termini di accompagnamento a grandi eventi e a situazioni di di grande afflusso di poter garantire la massima attenzione nell'organizzazione nell'efficientamento e quindi anche nel contenimento e razionalizzazione della spesa di questo evento sia in termini ovviamente sanitarie di approntamento e di indirizzo che stiamo dando per prepararci al giubileo del 2025 sia in termini di TPL e amministrazioni quello di quello che è uno dei temi caldi dei rifiuti sui quali ovviamente noi stiamo facendo la nostra parte nell'ambito di queste difficoltà però mi sento anche di poter dire con un dialogo costante leale trasparente e costruttivo anche con l'amministrazione di Roma Capitale perché è parte essenziale di questo processo e guai guai nell'interesse sia della finanza pubblica sia dei nostri cittadini se venisse meno questo dialogo e questa attenzione per il ciclo dei rifiuti poi abbiamo anche individuato perché è una dei cruci ed è una di quelle situazioni anche tra l'altro in maniera preoccupante per quello che mi riguarda anche fonte criminogene ulteriore quindi c'è un'attenzione enorme che ne stiamo dando ieri è stato adottato un importante atto di indirizzo perché alla storica qui non c'è nessun giudizio politico rispetto alle amministrazioni di Roma Capitale attuali o altro ma è una storica vicenda quella della gestione dei rifiuti romana e ovvio noi abbiamo dato un atto di indirizzo importante anche per proteggere comunque le province del Lazio che comunque molto spesso quel non nel mio giardino nasce da questa scarsa programmazione che nel passato si è tradotta in una situazione difficile molto caotica che oggi attraverso il processo di commissariamento si sta tentando di risolvere sono sfide difficili sfide difficili perché comunque anche l'altro tema che lei ha volutamente citato riguardo riguardo alla giubileo ma che riguarda anche una prospettiva più ampia che è quella delle infrastrutture le risorse per potenziare la rete infrastrutturale questa è una regione che ha un potenziale enorme e quindi l'efficientamento delle risorse è tanto più necessario tanto più sono importanti le nostre le nostre infrastrutture che comunque hanno necessità di essere nuovamente rafforzate e valorizzate abbiamo dei territori che possono offrire migliori opportunità necessitano delle adeguate infrastrutture così come le nostre le nostre aziende e su questo io garantisco la massima attenzione della mia giunta sono lieto delle parole di incoraggiamento rispetto alla collaborazione che sia a livello amministrativo sia in termini di rapporti con la giunta sono arrivate dal consigliere relatore noi faremo di tutto come amministrazione per far sì che al termine di questa dodicesima legislatura signor presidente possano esserci davvero quei risultati che i cittadini del Lazio meritano per guardare con orgoglio alla loro amministrazione regionale che può fare la differenza reale nella vita della gente per i vostri consigli il vostro ausilio è prezioso in questo cammino non è retorica è proprio un vissuto personale che io sento mio e quindi con questo spirito io chiedo la parifica del giudizio 2022 ma ringraziandovi comunque per tutte le osservazioni pertinenti e puntuali che sono giunte in questa data grazie signor presidente grazie a lei signor presidente ora il collegio basta in camera di consiglio adotterà la decisione poi tornerà in aula e daremo l'esito di quello che abbiamo deciso quindi chi ha pazienza di aspettarci spero che l'attesa non sia particolarmente lunga e quindi ci rivediamo e poi ci salutiamo per chi rimane più tardi l'udienza è sospesa i gentili ospiti sono invitati a prendere posto grazie fa ingresso la corte l'udienza riaperta dato che il PQM è abbastanza lungo io direi che vi potete anche accomodare non si fa però per una volta tanto rompo il protocollo essendo poi come presidente della corte oggi organi di polizia quindi vi posso dire di stare seduti a sto punto state seduti pure voi dai dai va bene insomma va bene allora abbiate un po' di pazienza dunque Repubblica Italiana è il nome del popolo italiano la corte dei conti sezione regionale di controllo per il Lazio nell'udienza del 29 settembre 2023 sentite le relazioni d'udienza le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero e l'intervento del Presidente della Giunta regionale sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate parifica il rendiconto generale della legione Lazio per l'esercizio 2022 con i relativi allegati approvato con delibera di giunta regionale numero 137 del 28 aprile 2023 nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio con le seguenti eccezioni a capitoli di uscita indicati nel dettaglio in parte motiva e quindi vi risparmio che in violazione dell'obbligo sancito dall'articolo 20 comma 2 lettera A del decreto legislativo numero 118 2011 non riportano la registrazione di impegni in misura corrispondente agli accertamenti effettuati sui correlati capitoli di entrata per il complessivo importo di euro 23 milioni 703 mila 816 virgola 86 b dei mancati accertamenti ed impegni degli importi di euro 2 milioni 178 746 ed euro 8 milioni 826 mila 100 di competenza dell'esercizio 2022 che sono stati rimandati all'esercizio 2023 in violazione dell'obbligo sancito dall'articolo 20,2 lettera A del decreto legislativo 118 del 2011 per l'importo complessivo di euro 11 milioni 4 mila 846 c del capitolo di entrata concernente entrate derivanti dalla riscossione dell'anticipazione di liquidità concesse all'Ater di Roma nella parte in cui riporta residui attivi in assenza dei relativi presupposti di legge per l'importo di euro 34 milioni d il risultato dell'amministrazione lettera A dell'allegato A prospetto dimostrativo del risultato dell'amministrazione per l'effetto riflesso e per gli importi derivanti dalla mancata parifica dei sopraindicati capitoli di cui alle precedenti lettere A B e C il tutto nei termini e per le ragioni e per gli effetti riportati in parte emotiva E della parte accantonata del risultato dell'amministrazione lettera B del prospetto dimostrativo del risultato dell'amministrazione e dell'elegato A1 elenco analitico delle risorse accantonate nella misura in cui 1 contabilizza un maggior importo a titolo di fondo credito e di dubbia esigibilità in conseguenza della svalutazione del credito di cui alla precedente lettera C per l'importo di Euro 3.700.000 2 contabilizza un minore importo a titolo di fondo per la copertura dei risultati per l'importo di Euro 95.627.484,44 F della parte vincolata lettera C del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'elegato A2 elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione nella misura in cui 1 non contabilizza le risorse accertate sul capitolo concernente entrate derivanti dallo svincolo del gettito della manovra fiscale regionale ai sensi dell'articolo 2,6 del decreto legge 15 ottobre 2013 numero 120 relativamente alla quota trasferita con apposite variazioni del bilancio dal capitolo di entrata concernente entrate derivanti dallo svincolo del gettito della manovra fiscale regionale di cui l'articolo 2,6 del decreto legge numero 120 del 2013 destinate alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie per l'importo di Euro 45 milioni 2 risultano contabilizzati in eccesso vincoli per l'importo di Euro 23 milioni 703 816 86 in conseguenza dei mancati impegni di cui la precedente lettera A il tutto per le regioni determini per gli effetti indicati in parte emotiva lettera G del risultato dell'amministrazione lettera E dell'allegato A risultato dell'amministrazione per l'importo complessiva di Euro 170 milioni 927 mila 484 44 di maggiore disavanzo per effetto riflesso della mancata parifica delle sopraccitate poste e voci nei termini per gli effetti indicati in parte emotiva le eccezioni di parifica di cui le lettere A B e F punto 2 sono neutre agli effetti della terminazione del risultato di amministrazione parte disponibile lettera E H dei capitoli di uscita indicati in parte emotiva che in violazione dell'obbligo sencitolo all'articolo 20,2 letterale del decreto legislativo numero 118 del 2011 riportano la registrazione di impegni in misura superiore rispetto agli accertamenti effettuati sui correlati capitoli di entrata per l'importo complessivo di Euro 584.830,50 I del perimetro sanitario allegato allo schema di rendiconto 2022 per effetto riflesso delle eccezioni di parifica sopraindicate per la parte di rilevanza nonché per la parte in cui espone a copertura del finanziamento aggiuntivo regionale di parte corrente in conto capitale capitoli di entrata allocati sulle partite di giro in violazione dell'articolo 40,1 decreto legislativo numero 118 del 2011 e punto 9,10 allegato 4,1 al decreto legislativo numero 118 del 2011 e per le modalità di esposizione dei capitoli in entrate e in uscita finalizzati al finanziamento del disavanzo sanitario lettera C per la parte relativa agli stanziamenti agli accertamenti agli impegni finalizzati al ripiano dei fondi di dotazione per euro 45 milioni J dell'allegrato delle entrate finali accertate e delle spese finali impegnate perché sossossimato dall'importo relativo alle corrispondenti voci di entrate e di spese impropriamente registrate dalle partite di giro e servizi conto terzi riferiti alle seguenti tipologie di entrata 1 ottimizzazione di liquidità ex articolo 3 della legge regionale numero 17 del 2015 2 risorse dell'Unione Europea 3 investimenti immobiliari italiani SGR SPA per garanzia immobiliare l'eccezione di parifica di cui alle predette lettere H I e J sono neutre agli effetti della determinazione del risultato di amministrazione lettera A e lettera E il tutto nei termini e con gli effetti indicati in parte emotiva parifica con riserva lettera K le risorse accertate sul capitolo di entrata concernente recupero da eccedenze di copertura e dei avanzi finanziari al netto dell'impegno di euro 35 milioni registrato sul capitolo di spesa concernente il finanziamento in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività essenziali di cui l'articolo 8,4 del decreto legislativo numero 517 del 1999 legge regionale numero 14 2021 articolo 28 comma 1 lettera B trasferimenti correnti e amministrazioni locali per l'importo di euro 64 milioni 566 882 91 L l'aggregato dei residui passivi e dei residui perenti per la parte relativa alla copertura del fondo rischi GSA e al finanziamento GSA sistema sanitario regionale con il meccanismo dei pagamenti tramite Lazio Crea SPA M la voce D debiti per trasferimenti e contributi dello Stato patrimoniale lettera A enti finanziati del Servizio Sanitario Nazionale che risulta pari a zero e lo stocche dei residui perenti verso le aziende sanitarie lettera N l'allegrato dei residui attivi vedusti provenienti dall'esercizio 2017 precedenti che sono allocati nei titoli secondo terzo quarto quinto e nono il tutto per le ragioni nei termini e per gli effetti indicati in parte emotiva approva l'allegata relazione ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti di cui è il reggio decreto 12 luglio 34 1214 e dell'articolo 1,5 del decreto legge 10 ottobre 2012 numero 174 convertito con modificazione con legge 7 dicembre 2012 numero 213 ordina che i conti muniti dal visto della Corte siano restituiti al Presidente della Regione Lazio per la successiva presentazione al Consiglio regionale dispone la trasmissione della presente decisione con l'unità relazione al Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione Lazio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché alla procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio per le determinazioni di competenza fisso il termine di giorni 30 per il deposito della decisione dispositivo letto in udienza l'udienza è conclusa grazie a tutti per averci atteso e adesso ci salutiamo finalmente grazie a tutti grazie a tutti